le macchinine colorate e la gara squadre blu verde gialla e rossa ci sono quattro bandiere colorate e qui ci sono le nostre amiche, le quattro macchinine colorate oggi parteciperanno ad una gara squadre con partenza una dopo l'altra questo è il circuito su cui si terrà la gara la macchinina gialla partirà per prima e completerà il percorso poi sarà il turno della macchinina blu la macchinina verde partirà per terza e per ultima la macchinina rossa macchinina gialla pronta a partire? pronti partenza via sale sulla rampa ed eccola a scendere attraversa il percorso di blocchi arancioni e... ben fatto! hai guidato molto bene macchinina sta partendo la macchinina blu attraversa la galleria e poi percorre questo cerchio ma attenta è scivoloso macchinina verde macchinina verde eccola sulla rampa e... giù velocemente e adesso un piccolo salto macchinina rossa è il tuo turno vai si supera il labirinto di blocchi arancioni ma... c'è una ruota portala con te entra nella porta rossa del garage e dai la ruota alla macchinina sportiva in costruzione grazie amica gru ben fatto macchinine avete anche aiutato a costruire questa bellissima macchina sportiva bel lavoro ciao alla prossima puntata ci divertiremo ancora